Io volevo solamente ringraziare tutto il lavoro che c'è stato dietro per potermi riportare a casa, quindi ringrazio tantissimo lo Stato italiano, il Ministero degli Appari Esteri, l'Unità di Crisi, ringrazio tantissimo tutto il movimento che a quanto pare ha sostenuto la mia famiglia e la mia liberazione e volevo solamente dire che sto bene, che spero poter continuare a lavorare nella cooperazione, io credo che sia una cosa molto importante, quindi so che per molte persone è un lavoro rischioso, un lavoro difficile e insomma il rischio l'ho visto in prima persona, l'ho vissuto in prima persona, ma questo spero che non fermi, non fermi me e nemmeno tutto il resto della cooperazione e basta, insomma non ho molto più da dire Chiaramente a volte sì, a volte è capitato sì, ma sono stata trattata bene, sono stata trattata bene, adesso sto bene, sono in forza e quindi insomma adesso finalmente è finito Buonasera